Il negozio è composto da tre piani, abbiamo un piano seminterato che è questo, che è il più capiente, più voluminoso, in cui proponiamo la collezione Sport e la collezione Bickenberg, salina White. Abbiamo poi due piani, un piano terreno, un primo piano per la collezione Dirk Bickenberg Sport Couture, che rimane la nostra prima linea, la collezione di punta, la collezione in cui Dirk approfonde maggior parte del suo proprio impegno. Il mio nome è Andravasa, Ho 30 anni, sono nato a Sassari in Sardegna, vivo qua a Milano questo è il quinto anno. Vivo qua dal 26 di febbraio, quindi ormai sono quasi tre mesi. La mia vita sicuramente è cambiata, perché bene o male ora vivo la vita di un cacciatore di serie A, anche se non sono un cacciatore di serie A, quindi sta a significare appartamento di lusso al centro di Milano, una Porsche a disposizione, è come se io avessi un appartamento prestato all'attività di vendita, perché bene o male è un vero e proprio appartamento con la camera da letto, una cucina, i bagni, la palestra privata, il garage in casa. Grazie a tutti.